bella a tutti farabutti bentornati andiamo a vedere per questa questa settimana la prossima settimana i giocatori risalto e anche i featured player quindi andiamo un pochettino ad analizzare secondo noi più interessanti partiamo con i player of the week di questo giovedì 4 marzo saranno infatti lukaku bale depol gorechka donna rumma ruben diaz david luiz gosens gulam badou e mustafa mohammed penso andiamo a vedere poi nel dettaglio intanto raga che dire lukaku assolutamente ci sono dei problemi al momento al sito infatti certe volte non si caricano le pagine infatti pazienza facciamo un refresh pazienza lui raga è un giocatore davvero assolutamente una punta una delle punte più forti del gioco soprattutto per il suo contatto fisico 99 velocità 97 c'è l'azione 85 non è fortissimo in accelerazione però ragazzi vi assicuro che è un cazzo di treno comportamento difensivo 97 finalizzazione 97 infatti comunque come over all 96 mi sembra un che io l'avrei fatto arrivare al 97 98 perché come sta giocando in questo periodo è assolutamente una bestia purtroppo è un rapace d'aria se fosse stato opportunista forse sarebbe stato addirittura migliore forma fisica 6 il che lo vede utilizzabile anche con lettera c colpa di testa 90 elevazione 90 buon dribbling ma raga lui è veramente una bestia un giocatore veramente veramente da avere sperando che non si blocchi il sito che bail raga arriva a 95 ma io non uso gli eda giocatore da provare ma a me non piace tantissimo ecco qua che da sempre errore va bene lo accetto depol giocatore chiave lo potete usare anche come trequartista perde quattro punti di overall ma caruccio forma fisica 7 non è velocissimo ma è giocatore chiave se non avete un trequartista giocatore chiave ma lo potete usare non ha il problema il suo problema è che non ha un comportamento offensivo una frenizzazione tale da poterlo chiamare attaccante aggiunto quindi lasciate lo cc e ogni tanto si inserisce nell'azione gorechko è un ottimo un ottimo centrocambista centrale onnipresente non ha una resistenza altissima quindi penso che lui resisterà facendo un po di pressing così alzando un po la tacchetta fino al 75 ottantesimo non è come becca monete per di che anno 99 però un bel giocatorino fa bei passaggi tira anche qualche può tirare anche qualche calcio piazzato buona potenza fa un po del controllo palla del dribbling un pochettino l'equilibrio il suo punto di forza è un giocatorino bello goloso ce l'ho già ce l'ho ecco di nuovo qua che da problemi va bene pazienza speriamo che carichi entro oggi ecco poi donna roma allora raga donna roma ora arriva a 95 secondo me donna roma il portiere più forte del gioco come potete guardare in queste in queste statistiche a tutti 99 soprattutto arriva a 95 il mio arriva a 94 resi senza fortuna di 6 forma fisica 7 abbastanza veloce per un portiere molto buono il contatto fisico e raga se lo prendete usatelo perché è veramente una bestia lui è l'unico portiere che quando ci sono i calci d'angolo blocca la palla invece di respingerla cioè ogni tanto la respinge però la maggior parte delle volte la blocca ruben diaz arriva a 96 è un incontrista se non ricordo male si forma fisica 7 ottimo contatto fisico 95 già questo lo rende una bestia fase difensiva molto buona con un'aggressività alta l'aggressività in realtà non è che il giocatore picchia come già avevo spiegato ma che è molto pronto recupero palla 96 comportamento difensivo 96 elevazione buona colpo di testa raga lui è un bel giocatorino poi ora è 95 io c'ho uno che arriva a 96 io c'ho quello che arriva a 95 ma una bella bestia david luiz già posso posso vedere che arriva a 93 è un frontale extra già a me non piace molto velocità scarsotta come potete vedere non è già a livello di ruben diaz quindi raga se non avete altro usatelo ma a me non fa impazzire gusens gusens arriva a 93 giocatore molto veloce che ha molta resistenza e anche un giocatore chiave lo potete piazzare anche mediano centrocampista forse da il meglio di sé come come cls perché che usa i moduli larghi con cls clt bel giocatorino non è completissimo ma caruccio gulam gulam che non è disponibile eccolo gulam che arriva a 91 un terzino offensivo c'è molto di meglio raga anche a livello proprio di di palle oro palle nere badu che non è il sito di incontri che tutti conosciamo arriva un bel 97 di valutazione con un opportunista velocità al top 99 95 buon contatto fisico per un opportunista purtroppo lo penalizza la forma fisica parliamoci chiaro sti giocatori sono lettera a o b 2 3 volte l'anno quindi non sarà bellissimo tutto l'anno ecco ma comunque per togliervi qualche sfizio qualche sfizio va bene poi c'è sto ecco mostafa mohamed arriva a 93 una punta pure lui opportunista non velocissimo caruccio ma per fare le sim ma poi questi giocatori sinceramente io non so cosa cosa siano ma i più interessanti sicuramente sono un pe che arriva a 100 alison arriva al 94 ottimo portiere vorratti ottimo ottimo per passare palla ma non fa assolutamente impazzire soprattutto per il fisico un po è buono in fase difensiva comunque poi sulle sulle muro prendetelo modric non me non piace è lento non è fisico niente di che a piliqueta buon terzino difensivo non a livello di bombissaka o pavard ha una buona fase difensiva comunque ottima resistenza 99 forma fisica 6 è buono ragazzi se lo prendete è buono non so in che modo si prenderanno questi giocatori perché non sono verti sono azzurri quindi non so mendy è un razzo girù è una lumaca cancelo buono ma in fase difensiva è disastroso ma rega non ho approssimazione dovrebbe arrivare a 99 ma io sinceramente non so non mi fido di queste approssimazioni è un regista creativo quindi tre quartista già vista vicino al mediano poi piccolo indiscrezione dovrebbe essere dovrebbe essere disponibile con i punti e football cristiano ronaldo ora realisticamente io credo che metteranno anche messi nella compagine barcellona quindi saranno disponibili entrambi penso con i punti e football con 1500 punti e football se non l'avete mai preso cristiano ronaldo lo potete beccare ma andando velocemente a vedere chi sono i più appetibili ovviamente messi non è più il messi con 99 di velocità ma un po più lento ma fa sempre il suo fottuto lavoro per stegna uno dei portieri più forti del gioco lui quanto arriva lui arriva anche lui a 95 con tutti 99 però secondo me donnarumma è abbastanza superiore soprattutto è più alto arriva su più palle gritzman buono ma a me non fa impazzire c'è in quattro versioni de jong de jong è un ottimo centrocampista purtroppo tra le linee avrei preferito può fare anche il difensore centrale se vi interessa passaggio al top non è velocissimo ha una buona resistenza purtroppo la forma fisica si ferma a 5 quindi quando è lettera c non è proprio usabilissimo ma voi ve lo portate qualche volta andrà bene l'englet l'englet che non è disponibile dai non fammi fare ste brutte figure allora l'englet arriva a 95 è uno sviluppo buona fase difensiva ottimo colpo di testa anche buono non è velocissimo ma comunque nella media dei difensori ottimo marcatore intercettazione forma fisica 5 questo è un po il problema di molti giocatori dembele dovrebbe essere velocissimo arriva a 96 con 99 velocità 99 accelerazione purtroppo la resistenza 84 quindi sono gli mette del diciamo sono stati attenti e vi si spompa già al settantesimo buonissima frequenza pietra debole precisi una pietra debole fa buoni passaggi almeno quelli raso terra è un ala prolifica quindi si andrà sempre ad accentrarsi fase difensiva un pochettino inesistente ottimo ottimo della fase di dribbling raga è un buon giocatore per chi che usa gli es e gli eda ottimo bright white bright white finalmente arriva a 92 ma raga è un senza palla quindi non non lo vedrete proprio scattare in profondità ma starà lì un po per fare spazio agli altri dest dest che non si carica allora ragazzi dest che arriva a 96 velocità 99 99 fase difensiva un po è un po così così forma fisica 6 è un ottimo maratone da 197 di resistenza buono pietra debole tutto resto può anche fare partire l'azione con dei bei lanci 87 87 va anche come terzino sinistro frequenza e apprezzazione pietra debole 3 3 non male non male veramente e poi sto a raiu che uno sviluppo che arriva a 92 carino non male non è male poi vabbè cristiano ronaldo non stiamo qui a pettinare le bambole non è come messi il giocatore che siamo stati abituati ad avere negli altri ps ma arriva a 98 non arriva più a 100 la velocità è calata infatti non è manco azzurro 89 90 la maggior parte di noi lo usano trequartista o punta ma sinceramente lui è un po calato un po calato colpo di testa buono elevazione buona però non ha mai fatto tutti questi gol di testa sicuramente in avanti è un attaccante anche se è scesa quindi lui sarà disponibile con gli e football i punti e football se non l'avete prendete lo scesni che secondo me è un ottimo portiere si ferma a 94 ma a parte la respinta buono sempre sotto donna rumma ma buono di bala raga io non lo so non lo so usare buon giocatore purtroppo purtroppo regista creativo tanti giocatori sono stati riluminati con questa carta regista creativo pazienza delict il buon delict ora arriva a 97 fortunatamente gli hanno portato la forma fisica a 6 il che lo rende utilizzabile anche quando è lettera c difensivamente abbastanza una bestia contatto fisico 97 e tanta roba buon piede debole passa anche bene quindi potete lanciare con lui dalla difesa fate il kick off glitch buono 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 buon giocatore buon ucci buon ucci che a livello di velocità un po un po scarsotto anche accelerazione diciamo che le prende un po da da delict anche se la fase difensiva è molto buona ma forma fisica 5 già da quel punto di vista le prende anche anche lui da dal buon delict poi morata morata se non ricordo male a riserva di lusso morata ottimo per la riserva di lusso ma ci sono giocatori migliori con riserva di lusso tipo in zaghi però comunque raga a una buona velocità si comporta bene non è al top infatti non ha neanche un neanche un valore azzurro però dai la sua porca sicura la potrebbe fare non ci giocarei mai con lui titolare ma magari se fosse lettera va benissimo intanto chiesa non vado l'ora di finire sto video perché sto votiando questi caricamenti che non avvengono lui chiesa arriva a 95 ma la sarei aspettato più veloce infatti è 93 94 contatto fisico abbastanza brutto vabbè ma lui lo userete per proprio andare sulla fascia buona frequenza piede debole precisino piede debole 3 buona fase offensiva solo il passaggio rasatello verde buon controllo fase difensiva ovviamente non niente di che è un'ala prolifica quindi bene o male si inserirà come uno sesso poi danilo terzino destro terzino offensivo neanche tanto veloce neanche tanto bravo a difendere lo eviterei un po come la peste poi mckenny che dovrebbe essere un onnipresente che si ferma 94 ma lui è un bel giocatorino perché ha contatto fisico 95 resistenza 97 forma fisica 6 buona resistenza infortuni buona elevazione buona in tutto quindi lui è un giocatore da prendere quindi raga che dire questi sono giocatori che saranno disponibili nelle prossime settimane sono molti giocatori interessanti altri un po meno quindi girate raga finché ci avete qualche euro girate perché per alcuni vale veramente la pena in primis mbappé donnarumma assolutamente da avere sulle assolutamente da avere anche poi mckenny buono delict molto buono de jong insomma ci sono dei giocatori molto interessanti fateci un pensiero da spacchettare quindi che dire ragazzi il video il video finisce qui grazie per avermi seguito che dire raga con in bocca al lupo ciao ciao